Davanti al bar di un locale cinese che io con una voglia di pasta col pane che riempia magari un bidet. Tu che non ti sei cambiato nemmeno, quando han convinto a sposarsi moriri col tuo maglione sudato colore blu moren, diceva bene d'accordo su tutto, ma la cravatta dov'è, mentre sorseggi una bevanda alcolica qui ed una voglia così di crepare magari soltanto col gas. Tu che non parli nemmeno, se appunto a caso domani ci chiudono tutta la fabbrica, mi guardi come si guarda, parente mi dici questo è il momento del mio rincorso. E già, e già perché noi due, noi due, noi due, proprio noi due vedremo tutta quella del mio rincorso. E poi qualcuno si chiederà, e poi qualcuno si chiederà, e come si fa, come si fa nel mio rincorso. e tutto il mondo esploderà, non per noi due e per le tue no, perché del mio rincorso. il lume, il lesbo e le pastiglie al mattino, digiuno che io. Mentre una vita ricorre, ma stento una scisa, che io. Sarebbe bello che la canzonetta dicesse assente per male incurabile, invece sei lì che mi guardi, ma poco, mi guardi come si guarda un cugino, mi guardi come si guarda un pantino. da allora tu non saluti neanche sul tornio, fai put a caso corretto il caffè, eh? Mentre prosegue penoso il romanzo di Fabri Cagli, o qui davanti, ma sì, ma per dire stoppirla, di roba metallica. Che scivola invece io punto a caso che sono, uno che ti incazza subito al volo, perché sei vero che roba di anni di amore, per niente di roba metallica. E allora, 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 ora mi dice che peggio sta per raggiù, sta per la scala mobile. Allora, allora, poi sibrogli, como si volta nel volo, il volo giro . Anche la fabbrica lo so, io per noi due, per la casa di noi, e tutto il mondo griderà, e tutto il mondo griderà, che meglio il mio ricordo. La, 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 la.